Oggi si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita il 17 dicembre 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. CGL, CISL e Will tutti insieme in una nota hanno specificato tutto il loro impegno per sconviggere questo fenomeno odioso. Come CISL interviene il segretario Emanuele Gallo, confermiamo e rinnoviamo il nostro impegno nella lotta contro un odioso fenomeno che non accenna a diminuire. La cronaca quotidiana ci ricorda ogni giorno come questa sia una vera emergenza sociale. Emanuele Gallo conclude il suo intervento confermando l'impegno di non abbassare la guardia, rimanendo impegnati, soprattutto dalle nostre parti, nella quotidiana opera di sensibilizzazione e vicinanza a tutte quelle donne che non hanno ancora trovato la forza per dire basta ad abusi e violenze. Per Rosanna Moncada, segretaria generale CGL Caltanissetta, la violenza contro le donne è una delle più diffusi forme di violazione dei diritti umani. Purtroppo è un fenomeno devastante e persistente che vive anche del silenzio delle vittime. In gran parte dei casi la donna che denuncia risulta essere già stata oggetto di progressi e maltrattamenti, non segnalati per anni. La violenza, in tutte le sue forme, si radica e progredisce nella disuguaglianza e nella discriminazione, che nel caso delle donne, ed in particolare del Sud, viene acuita dalle scarse opportunità di lavoro che le vengono offerte. Il segretario generale Will Caltanissetta, Salvatore Gutilla, evidenzia che Lavorare sulla prevenzione è fondamentale per sconciurare il ripetersi di atti criminosi di genere che arrecano profondo dolore alle famiglie coinvolte. Prevenzione significa esortare le donne ad allontanarsi da potenziali minacce e denunciare, all'insorgere dei primi segnali di violenza, sia fisica, psicologica o economica, che rappresenta una serie minaccia. Il silenzio è il maggior alleato del misfatto.